ciao bellissimi bentornati questo è oggi siamo qui per fare qualcosa di particolare se avete cliccato in questo video vuol dire che il titolo vi sembrava interessante o sbaglio beh oggi trasformeremo un pokémon tu stai zitto telefono da mostro portatile a essere umano aio me so tagliato cristo non so se avete capito non so se hai capito da mostro mostro a essere umano un bellissimo essere umano affascinante come me magari iniziamo col cancellare tutto quello che c'è su questo disegno ovvero il disegno per i 10.000 pam io vorrei iniziare con uno starter quindi siamo qui sul random pokemon generator quello dell'ultima volta in cui mischiamo tre pokemon e io genererò finché non mi esce uno starter quindi iniziamo pam nessuno starter pam nessuno starter pam uh torterra cristo ma non mi piace torterra proprio torterra mi doveva uscire cristo no no io cambio generale abbiamo greninja greninja non è male signori greninja si può iniziare benissimo con greninja e perché non utilizzare greninja a forma ash che è un po più strano c'è uno shuriken gigante dietro lo mettiamo qui lui ci avvantaggia sicuramente perché ha già un qualcosa di umano come forma ma l'obiettivo di questa serie secondo me dovrebbe essere quella di fare un essere umano vero e proprio non con il colore da pokemon eccetera proprio un essere umano con il colore pelle umana insomma un essere umano che per abbigliamento e design richiami questo pokemon questo è il mio obiettivo ed è quello che voglio riuscire a fare oggi quindi inizierò proprio con il disegnare qualcosa di umano quindi parto dalla testa che ovviamente la testa è attaccata a un collo se no non è tanto umano cioè c'è anche chi ha il collo un po più corto degli altri o greninja è magro e snello quindi anche lui dobbiamo farlo bello magro e snello senza essere troppo pompato poi greninja è un ninja proprio il nome lo dice quindi lo facciamo in posa ninja questa per fare un ninjutsu ecco qui la posa che inizia a prendere forma la posa ninja qui l'altra mano invece non lo faccio in posa ninja perché voglio che tenga grappato con la mano lo shuriken do che sembra essere una stella proprio stile naruto cioè una stella ninja di quelle giganti hanno sicuramente un nome che adesso non mi viene in mente ma vabbè poi vedremo se farla forma d'acqua o no come quella di greninja ci pensiamo adesso questo semplicemente mettendo un po di anatomia quella per trovare bene le proporzioni facciamo partire le gambe rifletto un attimo per beccare le proporzioni per bene mi è venuto già un po troppo muscoloso secondo me ma va bene quindi immagino che questa specie di stella o quella cosa rossa insomma che ha sulla testa gliela mettiamo tipo nell'abbigliamento fa un po tipo nova della marvel questa stella qui sopra poi lui c'è la lingua sciarpa quindi noi facciamo semplicemente una sciarpa vento che ovviamente c'è sempre e va da questa parte i capelli che alla fine sono di ash però mamma mia non mi piacciono per niente c'ha qualcosa sul gomito che boh non si sa cos'è beh essendo un ninja ci avrà tutte le sue tasche taschine e robe qua portatili dove tiene kunai e robe varie e greninja proprio questa forma qua sulle gambe che molto gonfia proprio perché immagino che richiami un po i pantaloni di ninja che finiscono al ginocchio e si gonfiano no quindi facciamo anche quelli che poi bisogna già iniziare a immaginare come saranno tutti i blu non riesco a immaginarli tutti i blu e brutti e abbiamo un nuovo iscritto si tratta di i'm nicox youtube that's where i'm talking about e io inizierei quindi a inchiostrare l'ho fatto diventare tutto bello azzurro e vediamo cosa esce fuori innanzitutto mi voglio togliere prima di tutto lo shuriken perché almeno guardate uso un trucco cioè faccio prima una punta no che dicevo per farle tutte uguali beh fanne una e poi replicala quindi la vado a selezionare me la copio e vado a replicarla adesso qualcuno di voi starà dicendo oh ma stai barando beh ragazzi se vi posso dare un consiglio dove potete risparmiare del lavoro risparmiatelo dove potete risparmiare del tempo risparmiatelo questo penso sia un trucco di un disegnatore secondo me sì mi sta facendo un po troppo attrito la mano quindi metterò il mio guanto da disegno ninja proprio per rimanere in tema ecco il guanto ninja questo mi permette di slittare slisciare la mano senza avere l'attrito della pelle sullo schermo amazing no wow ci ci wow mi piace la bannau adesso faccio dei bei occhietti carinissimi molto mangaka proprio manga style proprio fino alla morte guarda ci facciamo pure le righe sotto visto wow sembra una femmina troppo manga questi occhi ma chissene chissene se sembra un po femmina è la regola del manga deve sembrare un po femmina per forza se no che manga è se non sembra una femmina è la domanda mia che manga sei se non sembri un po donna tutti i manga sembrano un po donna a parte kenshiro e qui manga anni 80 90 insomma che ancora un po volevano essere un po macino un po maschi adesso in giro ci stanno le trappole pensi che una femmina invece panno maschio e tu magari già stai fantasticando con lei con questo personaggio evidentemente femmina dice adesso vado in camera mi chiudo e beh diventa un po più cieco di ieri invece poi magari parla e dice sono un maschio tira fuori insomma bastoncino e dice stai calmo prima avrei detto stai calma ma no a quanto pare no stai calmo bene 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 molto molto bene io dico che poi si può iniziare tranquillamente a buttare dentro un po di colore un po di colore quindi prima di tutto buttiamo dentro un sacco di blu tutto blu iniziamo con una maschera blu proprio con un riempimento blu dal quale nel quale andremo ad aggiungerne altre qui c'è un problema questo shuriken deve stare dietro non davanti cristo tuo signor shuriken deve stare dietro non davanti che diavolo stiamo a fa ma che c'è sta scherzau sta scherzau qui stavamo parlare di quello che c'è dietro quello che c'è davanti e tu fino a prova contraria stai dietro mica davanti stiamo a scherzau molto meglio no adesso più senso inizierò a corrempire intanto la sciarpa del colore più o meno della lingua non proprio quello della lingua perché la lingua è troppo rosa questo facciamo un rosa quasi rosso che mi piace deve comunque sia richiamare la sciarpa quindi non esageriamo con il rosso ecco manteniamolo sul rosa abbiamo un nuovo iscritto si chiama nicola mastrorilli grande essendo un essere umano vado a mettere il colore della pelle sulla faccia perché ricordiamoci che questo è quello l'idea quella di trasformare un pokemon in essere umano ma deve essere un essere umano non un demone strano mistro misto umano rana rospo quello che diavolo è perché in una scorsa live ho buttato uno schizzo di uno charizard umano però è venuto più fuori tipo demone invece no l'idea secondo me dovrebbe essere quella di far trasformare un pokemon in un vero e proprio essere umano e se non sbaglio nell'ultima serie di pokemon xyz visto che quella del sole e luna non so se è ancora uscita c'era un allenatore che aveva come pokemon mega blaziken e lui infatti era tipo vestito proprio da blaziken infatti quello sarebbe stato blaziken umano ecco io rimango su quello stile lì questo è una sorta di make up quello che lui ha cioè essendo un umano si è fatto questo ombretto pesantissimo pur di assomigliare a greninja o diciamo che forse è proprio greninja che si mette l'ombretto chi lo sa voglio provare a fare lo shuriken azzurro che richiami un po' l'acqua vediamo come viene se non lo faccio diventare grigio metallo e basta ecco adesso per il resto dei vestiti vorrei cercare di utilizzare comunque sia gli stessi colori di greninja quindi adesso mi prendo questo rosso e ci faccio la cerniera qui in mezzo e ci faccio anche questa base della del gilet felpa quello che diamine a volevo provare utilizzare questo giallo del dei piedi e delle mani non so a quanto ci stia bene non so se da questo punto utilizzare il colore della lingua qui del rosso il rosso ci sta molto meglio meglio andare con il rosso a penso che con la scelta dei colori ci siamo adesso niente andiamo a colorare a sfumare fare tante sfumature belle carine e simpatiche wow amazing ma io direi che ci siamo non solo ci siamo ma sono anche molto soddisfatto è molto carino sicuramente qualche errore nelle proporzioni quella perché un disegno fatto un po di corsa ma più che soddisfacente quanto tempo ci abbiamo messo un'ora come al solito cristo devo accelerare una bella firma qui anzi lo facciamo col colore blu facciamolo blu eccolo qui beh penso che per questo disegno sia tutto bevo un pochino di succo wow 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 bella e la prossima volta disegniamo un pene anche no spero che questo disegno vi sia piaciuto se così beh mostrate un bel po di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se ne volete altri prossimi proponetevi voi e ricordatevi soprattutto che questo era electric blu